Siamo con Gianluca Pesatori, gli allievi andano a 17 e pareggiano in casa col crema, un buon primo tempo, meritatamente è chiuso in vantaggio direi, poi peccato col pareggio che ha dato forse un po' di vitalità maggiore anche agli ospiti. Sì, ma direi che comunque vorrei tenermi soddisfatto della prestazione perché al primo tempo abbiamo giocato anche tecnicamente bene, cosa che magari era il punto più da migliorare rispetto a domenica scorsa, invece oggi abbiamo fatto una bella risposta, al primo tempo abbiamo fatto bene bene, probabilmente con un pino di polveri bagnati come si suol dire, poi nel secondo tempo ci stava che dovessimo calare un po' i ritmi perché ai primi tempi abbiamo tenuto veramente alti, però la squadra nel complesso ha fatto molto bene, peccato per il gol che ha preso perché è stata un'ingenuità nostra, è una cosa fortuita, però la prestazione c'è stata, quindi buon auspicio. Era riprendere il campino dopo gli stop. Sì, sì, ma più che altro i risultati è logico che dobbiamo cercarli, però la prestazione che c'è stata e sono contento sia in termini di emotività della partita, sia per quanto riguarda tecnicamente, sono contento che al primo tempo abbiamo giocato delle belle cose, anche sul rigore che poi è venuto il gol e ha fatto una bellissima azione, quindi sono cose che poi dopo dobbiamo farle un pochino più a lungo e quindi su questo ci lavoreremo un po'. Comunque muoviamo la classifica e si va avanti sempre con fiducia. Assolutamente sì, queste sono prestazioni che devono proprio portarci questa fiducia e possiamo giocarcela, se giocavamo con questi ritmi, con questa tecnicamente così bene, possiamo giocarcela con, non dico con tutti, ma quasi. Ok, grazie Gianluca Pesatori, lo risentiamo presto. Grazie a presto.